lunedì 18 novembre 2019 la menzogna con serena utieri e paolo calabresi mercoledì 11 dicembre 2019 un borghese piccolo piccolo con massimo d'apporto e la regia di fabrizio coniglio lunedì 13 gennaio 2020 cesare bocce e tiziana foschi ci presentano pesce da aprile mercoledì 22 gennaio 2020 after miss julie con gabriella pessione lino guanciale e roberta lidia de stefano martedì 18 febbraio 2020 al teatro cristallo vanessa incontrada e gabriele pignotta in scusa sono in riunione ti posso richiamare martedì 3 marzo 2020 tornano alle france con il nuovo spettacolo romeo e giulietta nati sotto contraria stella lunedì 6 aprile 2020 la commedia di rey cooney se devi dire una bugia di la grossa con antonio catania gialluca ramazzotti paola quattrini e nini salerno